Da 300 anni è riuscita a mantenere tutta la sua autenticità e il legame con Napoli e ora la pizza napoletana, prodotta secondo la tradizione napoletana, è entrata ufficialmente nell'Olimpo delle eccellenze alimentari che l'Europa difende contro le imitazioni e l'agropirateria. A Napoli si festeggia, ma anche per l'Italia intera è una vittoria dall'alto valore simbolico. Non a caso la pizza è la parola italiana più conosciuta al mondo. La decisione presa dalla Commissione europea dedica ben 11 pagine alle ricette che bisogna seguire per freggiarsi del logo Pizza Napoletana STG, specialità tradizionale garantita. Dalla preparazione della pasta alla sua dimensione, dal condimento alla fragranza, dalla morbidezza all'elasticità dell'alimento appena uscito dal forno a legna, che non potrà essere congelato o surgelato, né messo sotto vuoto per una successiva vendita. Ma non ci può essere pizza verace napoletana senza l'abilità del pizzaiolo. Tra gli organismi a cui saranno al momento affidati controlli contro i falsi, uno a sede a Napoli e due a Milano e provincia. Nel documento dell'Unione europea non manca neppure la storia della pizza napoletana che Bruxelles fa risalire tra il 1715 e il 1725, quando la parola apparve per la prima volta nel trattato di Vincenzo Corrado, chef del principe Emanuele di Francavilla. Ai consumatori Bruxelles manda a dire Occhio ora al logo pizza napoletana SGT, altrimenti non è quella verace. Secondo la Coldiretti però l'ingresso odierno della pizza napoletana nell'elenco delle specialità tradizionali garantite dall'Unione europea è una forma di tutela del tutto insufficiente che non impedirà che la metà delle pizze servite nelle 25.000 pizzerie italiane continui ad essere preparata con ingredienti importati dall'estero e dunque cagliate proveniente dall'est Europa invece della tradizionale mozzarella, pomodoro cinese invece di quello nostrano, olio di oliva tunisino e spagnolo e farina canadese o ucraina che sostituisce quella ottenuta dal grano nazionale all'insaputa dei consumatori.